su Clubhouse, che è questo social network audio, e ti toccherà insomma iscriverti. Eh, ma l'ho già invitato, ma l'ho già invitato in diversi, io per ora non ho avuto il tempo, però finirò lì. Ma è interessante, fammi sapere Tony su Clubhouse se ci senti bene. Si sente bene, si sente bene Marco. Fantastico, grazie mille. Il quadro in d'altro è bastito la stanza però. Ottimo, super, grazie mille Tony. E l'audio peraltro, sai Sandro, è secondo me un posto interessante anche per avere delle conversazioni così, di ragionamento, senza lo stimolo ossessivo, un po' dei social visivo. Per cui secondo me ti piacerà, come ti conosci. Sì, io sono un grande ammiratore della radio, sto lavorando a dei podcast, quindi è chiaro, il problema è il tempo. Io già ne perdo molto su Twitter, che è l'unico social che seguo da tanti anni e non vorrei perderne dell'altro, però poi va a finire che il tempo uno se lo moltiplica, no? C'è gente che conosco che è arrivata a 26 ore e mezzo al giorno, allenandosi bene. Senti Sandro, sai che mi è venuto un flash pazzesco? Allora, io pensavo che noi non ci fossimo mai conosciuti. Invece, mentre parlavi prima degli occhiali, e poi dobbiamo tornare a discorso degli occhiali, mi è venuto in mente che noi ci siamo conosciuti. Tu non ti ricorderai, ma io te lo dico, sei pronto? Può essere, dimmi. Allora, una volta mi ha invitato Lilly Gruber a otto e mezzo, ma è arrivato all'aeroporto e abbiamo preso il taxi insieme. E mi ricordo che abbiamo parlato tipo di Amazon, non so. Mi ricordo, mi ricordo, mi ricordo quel viaggio in taxi, non lo ricordo. E quindi ci siamo conosciuti lì, e basta, io ai tempi vivevo ancora in Italia e penso avevo ancora il cappello fluente, quindi sono abbastanza irriconoscibile adesso. Però ci siamo conosciuti in quel momento e io ho pensato, mamma mia come intelligente questo veronesi, quante cose che sai, io ho pensato subito questo. Vabbè, lasciamo perdere. Siamo andati dalla Gruber. Torniamo agli occhiali. Quindi, tu hai trovato quella soluzione lì degli occhiali, io invece ho ancora i due occhiali, che peraltro sono uguali. Quindi ogni volta, ma questo è quello da vicino o quello da lontano? È quello il problema. Io, a parte che io sono di una categoria di persone che, se le cose sono sostituibili, le perdo. Se sono insostituibili, non le perdo. Cioè, io viaggio con tutte le chiavi di tutta la mia vita addosso, perché so che in questo modo non posso perderle, se no sono perso io. E lo stesso vale per un paio d'occhiali solo, molto costoso, ok? Quindi non si può perdere, perché sono tanti soldi che si perdono. Che adesso spara, io non li metto per rispetto di chi ci guarda, e che hanno la bifocalità molto ben graduata, costano tanto, però come ti dicevo prima, io ho fatto il grande da questa che è un'amica, tra l'altro, a Prato, che fa gli occhiali, di precisione. E ho detto, ma non importa, sono stufo di perdere gli occhiali, di trovare quelli sbagliati, non ne posso più. Non vado al prezzo, voglio quelli buoni. Dice, sì, ma li vuoi perfetti o con un po' di imperfezioni? Ho detto, scusami, ma sai con chi stai parlando? Perfetti li voglio. Allora costano 1000 euro, perfetti. Le lenti, eh? Ah, ho detto, è imperfetti? Imperfetti vengono 300. Allora ho preso le lente, imperfette. Non oso pensare come ci vedrei con le lenti perfette, però capisci, 1000 euro, non è neanche una questione, mi sembrava immorale. Posso anche vederci meno, perché poi, come hai detto te, poi alla fine, ma mica dobbiamo vedere proprio veramente tutto. È anche meglio per gli altri sensi, per l'udito, per l'olfatto, se si vede meno. E quindi l'ho preso in perfetti. Immaginarsi qualcosa anche. Senti, vedendo dietro la tua libreria, che è una libreria seria, mica come la mia, che è una roba veramente con i libri buttati lì, peraltro io leggo solo roba di business, tristissima, cioè è una roba che è imbarazzante. Però ogni volta che vedo una libreria dietro, visto che anche si ricorda appunto la scomparsa di Umberto Eco in questi giorni, mi viene sempre in mente l'antilibreria di Umberto Eco. Mi sembra sempre un concetto così stimolante e mi viene sempre in mente il video su YouTube che c'è di Umberto Eco che mostra la sua libreria. Una specie di, lui faceva quello come fare attività sportiva tutti i giorni, lui andava in biblioteca, faceva il giro in biblioteca, era a posto. E quella è una, forse credo sia veramente unica al mondo la biblioteca di Umberto Eco, sia per la qualità sia per la quantità dei libri. Però l'abbraccio dei tuoi libri, lo dico perché a me è mancato per tanti anni, avevo una casa ancora a Prato, quella che mi avevano lasciato i miei genitori, dove avevo portato i miei libri, perché ho vissuto a Prato fino a due o tre anni fa. Poi sono tornato a Roma a vivere, però i libri li avevo lasciati là, ora li ho portati, ho portato libreria e libri. E l'abbraccio dei tuoi libri, anche proprio quelli che hai letto 40 anni fa, che non ti ricordi neanche più, o ti ricordi una cosa e basta, però aiuta molto, non solo a scrivere, anche a ascoltare la musica o a chattare. È un abbraccio, noi non è che ne abbiamo tanti di abbracci, questo è un abbraccio costante. E poi lui aveva questa frase, mi ricordo l'ho fatto un video un po' di tempo fa, sulla frase di Umberto Eco che diceva che i poveri hanno grandi televisori e richiedono grandi librerie, no? Che è stimolante, no? Nel senso è una, come dire, una suggestione così, insomma, stimolante sull'importanza della lettura. Però anche a te ti chiedono sempre, a me chiedono sempre, ma li hai letti tutti i libri? Io ogni volta dico, no, non li ho letti tutti i libri. E mi guardano come dire, ma come li hai letti tutti i libri? No, perché magari all'inizio del libro non mi piace, e quindi non lo dico. Come la gestisci tu questa? Ma senti, io siccome li ricevo anche molti in omaggio, sia da amici e amiche, e allora quelli li leggo, sia così dalle case editrici che mi fanno un gentile ed apprezzato omaggio, però non è detto che a me interessi leggere quel libro, siccome non c'è nessun patto, io tra l'altro non scrivo quasi mai di libri, li tengo, li tengo, quello sì, non sono uno che dà via i libri o li butta via, per carità, semmai li metto in seconda fila, dietro, diciamo che non sono visibili, ma non perché non li voglio vedere, perché non c'è spazio. Ma il grosso sì, li ho letti, perché poi, ora qui intorno c'è un sacco di libri sul tavolo, quelli non li ho letti, e quelli sono lì. Quindi quando prendono un ordine vuol dire che o li ho letti o non li leggerò mai, sono queste due categorie. Quelli che non ho ancora letto sono in giro per la stanza, per la casa, e quindi diciamo che c'è sempre un certo disordine a casa mia, perché non voglio mettere via un libro se non l'ho letto, ma lo voglio leggere. Lo tengo di modo che mi implori, capito, che mi ricordi di essere lì e di voler essere letto. Me lo lascio tra le balle, si direbbe, diciamo così, a Oxford. Invece quando hanno finito, li metto via e li metto in ordine alfabetico, perché c'è questa cosa, come li metti per editore, per anno, per... No, io li metto per ordine alfabetico secco, dell'autore. Così bisogna che mi ricordi l'autore. Se mi scordo l'autore, mi sono fottuto il cervello, non ne faccio più niente, ma se mi ricordo l'autore lo ritrovo. Altrimenti, andando avanti con gli anni, dico, uno si può dimenticare il genere, i generi che ha deciso, ti devi insegnare, hai bisogno di un bibliotecario in casa. L'ordine alfabetico a me mi salva, mi aiuta. L'unica differenza è che ho uno scaffalino solo per la poesia. Anche quella è in ordine alfabetico, però la poesia la tengo separata da narrativa e saggistica. Ok. E leggi robaccia, tipo quella che leggo io, appunto, sti libri di business qua, con i principi di business, questa roba qua, o non te ne frega proprio niente di questa tipologia di libro? No, i libri di business non li leggo perché non me ne intendo, insomma, però sono curioso. Se arriva qualcuno che mi conosce e mi dice guarda che te questo libro devi leggere, allora ecco che quel libro io me lo metto a punto, lo metto in orizzontale sulla libreria, sulla scrivania e lo leggo, ho letto libri di fisica, perché o mi è venuta un'ispirazione vedendoli in libreria o sentendone parlare, perché capita anche di parlare di libri, allora mi capita anche alle volte di leggere libri, diciamo, non tanto di business specifico, quanto di macroeconomia, oppure molto legati allo sfruttamento che è stato fatto del web, sia da un punto di vista commerciale, sia da un punto di vista tecnologico. Questi sono libri che qualche volta leggo con gusto, ecco, ma non da accumularne tanti come quelli che hai tu, certo. Io sono appassionato più che altro della letteratura narrativa. Mi dai un consiglio sulla gestione dei nuovi libri rispetto ai grandi classici? Perché un po' di tempo fa una persona che, insomma, ha un buon seguito a livello di podcast all'estero, si chiama Tim Ferriss, che è quello che aveva scritto la settimana lavorativa di quattro ore, Four Hours World Quick, è uscito con un post dicendo basta, io da quest'anno non leggo più nuovi libri, partendo dal presupposto che vado a rileggermi i migliori libri che sono stati scritti. Quindi, al posto di essermi, di farmi incantare dalla novità, vado a riprendere i grandi classici e cerco di imparare bene da quelli. Qual è la tua gestione rispetto al nuovo, piuttosto di andare invece su quelli che sono, la rilettura di libri che invece sai già che sono dei libri straordinari? Beh, allora, posto che anche tra i contemporanei ci sono dei, per me, classici, cioè quando esce, e ora sta per uscire, un nuovo libro di Richard Ford, per me è obbligatorio leggerlo immediatamente, perché è come se uscisse un nuovo libro di Jane Austen, per me, insomma, di un grande classico. E ce ne sono, non tanti, ma ce ne sono. Ce ne sono stati, perché io ho una certa età, e quindi, insomma, le ho visti morire, i grandi del ventesimo secolo. Li ho anche conosciuti, molti italiani. Ero giovane, e loro erano vecchi, ma li ho conosciuti, Moravia, Sciascia. E questi, ora, ognuno ha i suoi gusti e le sue preferenze, però questi sono dei classici, anche se sono vivi. E quindi quel discorso che facevi li includerebbe. Però io, piuttosto che applicare un criterio, come potrebbe essere quello che è sensato, e che però potrebbe invecchiare, potresti pentirti a un certo punto, di avere usato quel criterio per anni e averlo seguito, io preferisco lasciarmi andare al caso. E' sempre stato così, io sono un'autodidatta, i libri che ho letto, non li ho letti perché studiavo, per leggerli, ma perché mi sono imbattuto in persone che mi hanno detto, soprattutto quando ero giovane, leggi questo libro, leggi questo libro. E adesso, tra l'altro, sto cercando di restituire. Su Twitter io sto facendo una cosa, per smettere di parlare di tutto, che poi finisce per essere un gran casino. Ogni giorno io consiglio un libro di quelli che ho letto, e che sono stati importanti per me, perché 365 ci sono. Dal primo gennaio ho cominciato così. E' un modo di tenermi allenato sulle cose che, appunto, se seguissi quel criterio che dicevi tu, rileggerei. Però è già un modo per ricapitolarsene nella mente. Ma è anche un modo di restituire ad altri quei consigli che per me sono stati importantissimi, che mi sono stati dati tanti anni fa e che mi hanno fatto scoprire degli autori. Perché i classici li scopri per forza. Ma, per dire, futilità di William Gerardi, questo libro meraviglioso, che sta a metà dal classico, perché è un fratello di Chekhov, diciamo così, è però più giovane di Chekhov, è morto molto dopo, però è morto. Questo libro qua, se non te lo dice qualcuno, in italiano c'è una bella edizione in Audi, Futilità si chiama, è un libro meraviglioso. Ed è veramente un libro classico. Si assimila volentieri a Chekhov, perché ci sono tre sorelle pure lì e c'è questa protagonista che non sa scegliere tra le tre sorelle. Però è più moderno, diciamo, un po' più moderno. Ed è un autore che non viene menzionato, quasi mai. A me l'hanno fatto leggere. Che qualcuno ha detto, oh, leggi questo, a voce, oralmente. Non ho mai letto una riga su questo straordinario romanzo. E ce ne sono tanti, tanti autori li ho scoperti così. O perché c'è stata una recensione, magari un po' eccentrica, alla ristampa di un certo libro, ma sempre con l'impressione che, insomma, ti stessero facendo un favore. guarda, leggiti sto libro, vedrai che mi ringrazio. Perché è come quando si consiglia un ristorante, no? Io non so te, però io generalmente i ristoranti migliori nei quali ho mangiato, non li ho trovati sulle guide. Me li hanno indicate le persone. Perché sanno i miei gusti, sanno che a me mi interessa meno di una certa cosa e quindi non mi fa impressione l'impiattamento, le cose. E per questo quei ristoranti che magari io amo di più non stanno nelle guide perché trascurano qualche cosa che oggi viene valutato molto. Ecco, io vorrei con questa... è un gesto che faccio tutte le mattine, preparandolo prima, di postare un consiglio su un libro da leggere ogni giorno, che non è da seguire ogni giorno. però butto nel mucchio perché io credo molto nel caso, nel tirare a caso, nel tirare nel mucchio. È un buon criterio pure quello. Assolutamente. Perché se sei lì, se sei vivo e se sei vigile, dopo sta a te decidere. E non è il tuo criterio che decide, sei tu. Quindi, sì, è vero, la devi ancora non solo rileggere, e magari devi ancora leggere. Io mica ho letto tutto Balzac. Non mica letto tutto... Eh, come si fa? Questi hanno letto, hanno scritto... Allora, devi ancora leggere tutto Balzac. E che fai? Ti leggi questo? Sì. Perché? Perché questa cosa mi attira. Perché il suo grido sulla scrivania mi ha incuriosito e mi ha attaccato. Oppure no. Allora, magari, cerco di trovarmi il tempo per leggermi quello che mi manca di Balzac. Ma deve essere casuale, deve venire su da sé. Io preferisco così, ecco. Quali sono le migliori scoperte che hai fatto ultimamente? Di autori o di libri che hai detto, cazzo, è un libro pazzesco, e non te lo saresti aspettato ed è venuto fuori così. Dunque, una scoperta, nel senso che è un libro che mi è piaciuto molto e non me l'aspettavo che mi piacesse così tanto, è il libro di Obama, tanto per DM1. Oh, dai! Beh, sì, è molto bello, è molto ben scritto e soprattutto farà il ritratto di, non so, 200 persone, 300 persone. Il ritratto, eh? Cioè, te lo ritrai, e ora non so se ha avuto un ghostwriter o se l'ha scritto da sé, però sono tutte persone, vanno dal giardiniere del Roseto della Casa Bianca fino al primo ministro islandese, tutte persone che lui ha incontrato e te le tratteggia con una capacità descrittiva che, insomma, è di un certo rilievo, considerando che io mi aspettavo soltanto un impatto retorico, diciamo, d'alto livello, perché si tratta di Obama, certo, ma tutto focalizzato più che altro sui grandi fatti, la storia, eccetera, e invece c'è tutta questa minuzia di descrizioni che per me è letteratura, all'interno di un libro che adesso sta sotto, sta sotto al computer per tenerlo alto. Ha una sua utilità pratica. Ha una sua utilità pratica, perché è grosso, alto, e quindi nello streaming ti aiuta a non sembrare sempre. Però ecco, questa è una sorpresa. Dopodiché devo dirti che le sorprese maggiori che ho avuto in questi ultimi tempi sono stati non i libri, bensì le serie TV che io non seguivo, non ero un affissionario. Poi mi sono messo a vederne una, l'altra, ho cominciato anche lì a sentirmi, a sentire, a ascoltare, diciamo, i consigli, guarda questa, guarda quella, e devo dire che ne sto vedendo alcune molto belle. Una, per esempio, è Monzono. Non c'è un cittadino ormai di serie televisiva. Cosa stai vedendo che ti... Adesso sto vedendo una serie francese vecchia che si chiama Le Bureau de l'Ejambre, che è fatta però da un regista, uno dei miei preferiti, che è Eric Rochand, e ha cinque stagioni. Io sono alla prima, alla settimana. C'è l'aria. Quindi ho tanta aria. Però una che ho finito da poco, sono tredici episodi, è argentina ed è dedicata a Monzono, al pugile. Wow. Sia alla sua carriera di pugile selvaggio, che abbatteva tutti veramente, sia al giallo, giallo per modo di dire, ma lui ammazzò la moglie, a un certo punto e andò in galera. Allora, questi due livelli sono molto, molto ben, non intrecciati, ma portati insieme. E questa roba, anche a mia moglie, che non gliene frega niente del pugilato, l'ha presa, capito? Ed è argentina, quindi gli attori non sono mai così tutti sempre belli, con i denti sbiancati, lo shampoo fatto. Sono un po' scarognatielli, anche quelli belli, come sono nella realtà, no? Magari il procuratore è bello, c'è uno sguardo magnetico, però è basso. Perché quella è la realtà. E gli argentini sono più notoriamente, più vicini alla realtà degli americani. Gli americani la creano. Potremmo vedere 000, che qua in UK passa da Now TV, insomma, e quindi non è su solito Netflix, diciamo non è immediatamente accessibile. Però devo dire, mi colpisce molto vedere adesso le serie italiane, come prendono poi una vena internazionale, è un tempo impensabile che senti due persone che parlano in Calabrese e fai una serie internazionale. Com'è possibile? Invece oggi funziona, ecco. Eh, ma se uno come me si è messo a vedere le serie, vuol dire che veramente c'è mercato per le serie. Perché io ero uno che faceva resistenza. E tuttora dico, comunque le serie sono fatte meno bene di un film. Perché devi fare 12 ore invece che due. E quindi è chiaro che c'è una cura minore. Infatti, quelle che mi piacciono di più sono quelle che hanno meno errori. però gli errori nelle serie vengono accettati. Perché? Cosa vuoi? Ti sto acchiappato, ti sto accompagnando per 10, 12, magari anche per 3, 4 stagioni di 10, 12 puntate. Vuoi anche la perfezione come gli occhiali miei? Eh, no. Perfetto, no. Imperfetto va bene. Però io... Hai visto una degli scacchi? Eh, certo che l'ho vista. È stata quella. È quella che mi ha scardinato. Lì mi ha scardinato. Io non guardavo serie, mi sono guardato quelle, anzi, però quella la consideravo una cosa che avrei visto, sarei andato a vedermela anche al cinema. Ho visto in piena pandemia The Last Dance. Allora, The Last Dance infatti non aveva lasciato frascichi, era un unicum, era una cosa da vedere per forza, tutti e magari tutti insieme, la famiglia, eccetera, e poi parlarne, farne... È una specie di cineforum. È una cosa meravigliosa. È una meravigliosa perché questi ci avevano tutto quel materiale. Mentre Michael Jordan andava avanti, loro già pensavano a fare una serie. Michael Jordan che poi dava l'ok dopo anni per uscire. C'è stato anche il rischio che non venisse fatta questa, perché se Michael Jordan diceva no, questa che è veramente un capolavoro. Poi c'è stato... vabbè, poi siamo riusciti di casa, io a tutto ho pensato tanto che guardare la televisione. In Last Dance, quando Michael Jordan va nell'albergo a riprendersi Dennis Rodman, la fidanzata che gli ha aperto la porta ed era Michael Jordan, alcune chicche straordinarie. Perché lui e Scott Pippen avevano detto lasciatelo andare, perché se non lo lasci andare lui poi gioca male, deve andare a perdersi per 24 ore, però poi bisogna andarlo a riprendere. Certo. No, no, è un straordinario. La Stense, poi a quel punto si è entrato nel loop. Poi c'è stata, diciamo, la scarcerazione e allora per qualche mese io non ho guardato la televisione, l'ho guardato molto poco e stavo fuori, perché si poteva, e in quel momento si sperava anche, no, tutti, che fosse finita. E poi invece in autunno è ricominciato a tirare questo brutto vento e siamo rimasti di nuovo in casa. Io non esco stasera, per tornare alle 10, non esco nemmeno, al cinema non si può andare, e allora mi sono rimesso a guardare. E la regina degli scacchi è stata il grimaldello. E devo dire, rimane forse la più bella che ho visto in questi mesi, però ne sto vedendo anche altre di molto belle. Per cui, insomma, lì c'è stata una sorpresa, come c'è stata una sorpresa nel libro di Obama, perché non me l'aspettavo, non mi aspettavo un coinvolgimento a questo livello, mentre magari, appunto, adesso esce il libro nuovo di Richard Ford, io ho grandi aspettative, e se poi è, come tutti gli altri suoi, un libro che almeno a me mi sembra un capolavoro, non è che sono sorpreso, se mi chiedi cos'è che ti ha colpito, non te lo sto manco a dire, ti dico, oh, è uscito Richard Ford, vedi un po' te, però ormai è una posizione consolidata. Invece quelle cose lì sono una dimostrazione, come dicevamo prima, che se ti lasci, se ti abbandoni al caso, puoi sempre guadagnarci qualcosa. Tu dici, giustamente, sono una persona curiosa. È quello che ti tiene vivo e che ti tiene interessante anche per gli altri. Se no, rincasi, ti rimetti a rileggere quello che ti è già piaciuto, a rivedere quello che hai già visto, beh, insomma, è una specie di anticamera della morte, eh. Gabriele Develli in chat dice, ho finito proprio ieri di ascoltare l'audiolibro di Il Colibri, stupendo. Basta, e devo dire, hai un sacco di feedback molto positivi sul Colibri, una serie di domande anche le più diverse, ma te ne prendo una, te la voglio far sentire direttamente da Clubhouse, cioè, Sandra Gualandri ha cambiato addirittura il profilo, ok, praticamente immaginate che c'è un profilo all'interno di questa piattaforma, e lei ha cambiato il profilo e ha scritto E i Monti sono di Prato, fammi parlare con Sandro Veronesi, capito? E ha chiesto la possibilità di fare la domanda e quindi voglio premiare la sua genialità. Sandra, ciao. No, sei geniale te, grande. Vedi, hai coraggio, su questa cosa mi piace moltissimo la tua curiosità. Allora, ciao Sandro, sono di Prato. ma ci si conosce, no? Ci si conosce, mi incontrerete lì al bar, non lo so come... Ma ormai non ce la do più a Prato perché c'è arancione, non ci posso manco andare, siamo bloccati. No, guarda, una cosa che ti volevo dire è che ho vissuto da ragazzina la piazzetta e la pietà, no? Con i miei coitani, da qui c'era anche il tuo fratello Giovanni, per cui io sono più l'età di Giovanni ed eravamo con il motorino Ciao e la Vespa ed erano anni fantastici, da sognatori. Allora, visto il tuo ormai famoso libro Chaos Calvo, no? Che racconta e ci fa entrare un po' in quella in quell'area toscana pazzesca, ti voglio chiedere questo, ma diciamo Prato, no? Questa cittadella di provincia che ti è rimasto e che cosa invece ti senti un po' distante ormai da quelle radici là? Grazie Sandra, Guarda, io ci ho abitato fino a due anni fa il problema è che adesso io tengo famiglia a Roma e con bambini piccoli una nuova famiglia perché tu ce n'hai quattro di figli io sono cinque wow quindi insomma c'è da fare e soprattutto andrò però io ho ancora tutto a Prato anzi sto ho portato i libri sei mesi fa i miei libri sono sempre stati a Prato negli ultimi 15 anni tutti i medici specialisti sono tutti a Prato adesso che non si può prendere la macchina e andare a Prato come io facevo fino a pochi mesi fa perché c'è l'interdizione la zona arancione le cose adesso mi sono deciso di cercare degli altri specialisti medici a Roma cioè io a Prato c'ho ancora non ci vivo più e non ne parlo nei miei libri come fa invece il mio amico Edoardo Nesi benissimo perché c'ho un ritegno non mi riesce a parlare di Prato però è come se ci vivessi c'ho ancora una casa aperta lì che è quella appunto di famiglia che io di regalarla non ce l'ho voglia lo voglio dire pubblicamente non mi fate offerte come mi hanno fatto ha deciso tanto non ci stai mai a strozzo no è la tengo pago limo però te la vende la casa del mio padre l'ha fatta lui ma che scherziamo allora la tengo è costosa ma è costoso tenere una casa e non starci però per dire che il giorno in cui io dovessi vendere la casa di Prato e non andarci proprio più sarebbe io spero non venga mai questo giorno ma sarebbe un giorno per me da segnare con i circoletti rossi perché è uno di quei giorni nella vita che cambiano tutto anche se in questo periodo io non ci sto andando però i miei amici sono molti miei amici sono andati c'è un sacco di Roma che vive per questo ho chiesto ci conosciamo infatti conosceva mio fratello ma insomma siamo lì è una città sulla quale io ancora conto ecco conto che mi dia qualcosa ed è anche la ragione per cui quando mi chiedono dalla città qualcosa io cerco di darlo sempre facendo una bella differenza con le altre città ecco con le altre città posso dire no non posso sono occupato comprato non lo dico mai che sono occupato ecco Daniele su facebook dice Sandro Lonesi è il mio scrittore italiano preferito un modo di scrivere coinvolgente unico complimenti grazie non è l'unico a dirlo ci aiuti come dire per tutti quelli che vogliono scrivere o che appunto magari hanno delle ambizioni di qualche tipo letterario da dove da dove suggerisci di partire nel 2021 nel momento in cui c'è ti approcci all'idea di scrivere un libro io ti faccio una premessa io ho scritto credo due adesso c'è un terzo libro sempre di business io non so scrivere quindi ho sempre qualcuno che mi dà una mano perché non so mai se scrive lì le robe accentate cioè zero sono proprio negato e ogni volta che poi devo leggere l'audiolibro mentre leggo il mio libro penso mamma mia una roba inguardabile illegibile proprio mi viene male e allora penso sempre ma come fa un grande scrittore a scrivere no cioè che quando leggi dici mamma mia però non ti succede mentre scrivi cioè o mentre anche a me io infatti non rileggo mai i libri quando sono stampati e che meno ascolto l'audiolibro che nel mio caso o almeno nel caso del Colibri è stato letto da un grande attore che è Fabrizio Gifuni però nonostante questo io me ne sto lontano perché sento quella roba lì sento vergogna ma non la sento grazie a Dio quando sto scrivendo e questo mi permette di leggere rileggere correggere correggere e sapere alla fine di avere comunque fatto il meglio possibile per me dopodiché è vero ma è una cosa della quale vorrei anche liberarmi perché è una forma di anche penso pure per te cioè se il libro viene stampato fidati e vuol dire che va bene vuol dire che poi potrà essere un successo no piacere a Tizio a Pinco a Pallino oppure no però fidati non è come lo senti quando te lo rileggi o te lo senti nel coso dopo quando ormai non è più tuo quando non c'è più nulla da fare e quindi ci vedi tutti quei difetti e quelle lacune rispetto ai libri degli altri è una cosa che ci portiamo dentro noi io credo lo dico con esperienza per non fare il falso modesto se il libro è stampato è accettato dall'editore viene fatto un audiolibro e tutto vuol dire che schifo non fa e poi la sua vita la farà può anche avere una vita scarna una vita disadorna io ho scritto libri che hanno avuto poco poco seguito però non me li ha mai tirati dietro nessuno ecco i libri per dire sentite impostore però se io mi metto a leggere i miei libri sono un impostore sono un impostore ma lo faceva anche David Foster Wallace anzi c'è scritto un racconto tra l'altro profetico perché il protagonista di questo racconto si chiama David Wallace ed è più o meno lui ed è uno scrittore che si sente un impostore e che alla fine si suicida come si è suicidato dieci anni dopo lui e lo spiega molto bene perché ti senti un impostore perché le voci degli altri che ti dicono ma no è bello te lo fanno aumentare ancora di più in questo senso di essere un impostore guarda un altro un altro guarda quanti noi ingannati e ti senti altri cinicamente potrebbero godermi guarda quanta gente ha boccato oppure guarda quanti noi ingannati come glielo dico io che che questa roba non vale nulla e che io non valgo nulla però è un problema che noi abbiamo con noi stessi non mettiamoci di mezzo il libro perché è una cosa sulla quale io lavoro con la mia psicoanalista non è modestia non è umiltà è una cosa che ti che ti minaccia dentro di te tua come come certe altre cose ognuno ha le sue no? alcuni non c'hanno nulla però insomma molti c'hanno la loro minaccia la mia e può darsi pure la tua allora se abbiamo questo stesso approccio se mi hai fatto della tossica analista a questo punto mi sa che ci faccio la mia è lacaniana ed è un è un bel è un bel analizzare con i lacaniani perché è la parola la cosa più importante capito di parole ce ne sono tante anche quelle quando giri intorno quando non dici le cose però usi le parole e le parole parlano sempre il linguaggio è la chiave però io credo che sia indipendentemente dalla qualità dell'analista o la sua scuola il fatto stesso di averne coscienza avere coscienza che questa diminuzio che uno prova nei confronti di se stesso non è una forma di umiltà o di modestia ma è proprio una sindrome perché perché non esiste che un mio libro che ho scritto ci ho messo 4-5 anni e grazie a Dio come dicevo prima mentre lo scrivevo non mi dava non mi faceva vomitare a rileggersi poi quando è quando è pubblicato va via e lo riprendi in mano e ti dà questo senso di vergogna di imbarazzo vergogna è la parola giusta io mi vergogno ogni volta che leggo una roba però parliamoci chiaro adesso tra me e te non sono vergognosi i tuoi libri no? per me sono veramente vergognosi però oggettivamente non lo sono non è possibile perché se no non te ne farebbero fare un altro un altro un altro non è che fanno i libri solo per venderli è vero però ci sono comunque delle persone nelle case editrici che se una cosa non è non è pubblicabile o comunque è largamente migliorabile te lo dicono trovano il modo di dirtelo e tu li ringrazi a me è successo che mi abbiano fatto migliorare quello che avevo scritto ma anche migliorato poi quella sindrome impostor syndrome quella sensazione ma e come suggerimenti per diciamo migliorare la capacità di scrittura che suggerimento daresti a chi parte da zero diciamo guarda io l'ho fatto all'inizio quando volevo fare lo scrittore ma sentivo di avere poco da raccontare perché ero ragazzo avevo 18-20 anni riscrivevo i racconti degli altri e poi paragonavo andavo a mente leggere un racconto di Chekhov molto bello per citare un autore già citato prima e te lo porti dentro e poi allora uno dice bene ti piace così tanto che ti piacerebbe averlo scritto a te scrivilo senza copiarlo ma accopiandolo nel senso che se te lo ricordassi a memoria lo copio non te lo ricordi a memoria però ti ricordi come comincia i personaggi ecco in quel modo ti accorgi della tua distanza da come vorresti scrivere perché se ti piace Chekhov vorresti scrivere come lui io questa cosa l'ho fatta per molto tempo su racconti di grande livello che ovviamente mi giustificavo in partenza non avrei mai potuto raggiungere però era un modo per vedendo la differenza tra l'originale e la mia imitazione vedevo dove sbagliavo dove dovevo migliorare appunto quelle cose se io adesso noto le descrizioni nel libro di Obama è perché mi sono piano piano appropriato di un senso mio ovviamente anche questo discutibile però di un senso armonico di composizione dei dettagli ci vogliono non devono essere troppi ma non devono nemmeno essere se vai a vedere la stessa scena descritta da un tuo autore preferito e da te perché la vuoi riscrivere e ti accoggi benissimo di cosa ti manca e si migliora in questo modo si migliora tra l'altro questa pratica qua che io ho fatto per tanto tempo quando ero ragazzo per cercare di allenarmi poi proprio nel colibri l'ho ripresa invece in chiave più diciamo per l'appunto espressiva ho fatto una cover di un racconto dentro al libro a un certo punto una cover di un racconto di Fenoglio per me il più bel racconto che sia mai stato scritto in lingua italiana quindi attenzione un capolavoro utilizzando l'armonia la perfezione di quel racconto che io cambiando i nomi dei personaggi e la situazione però incastonavo dentro il mio romanzo poi l'ho detto l'ho detto anche alla figlia di Fenoglio che era un omaggio diciamo è chiaro che si tratta di un omaggio però anche lì persone molto competenti e anche in confidenza da potersi permettere di dirlo senza temere di offendermi mi hanno detto che quello è il più bel capitolo del libro wow e io lo capisco perché è sorretto dal più bel racconto che io abbia letto capisco Dino ti chiede di nuovo e ti chiede che racconto è quale racconto di Fenoglio il gorgo di Fenoglio il gorgo ed è il capitolo del coriore si chiama Ai Mulinelli ovviamente Anna ha subito saltato tutto e ha detto sì ma la domanda più importante è il prossimo libro quindi subito ho capito Sandro e quindi quindi allora allora il prossimo libro sarà un libro a quattro mani lo scrivo insieme a Edoardo De Angelis che è un valente bravissimo regista napoletano più giovane di me di vent'anni e su questo signore qua per dire dice leggi di business sto leggendo di guerra io di prima guerra mondiale questo è stato un eroe della prima guerra mondiale Salvatore Todaro questo è un altro libro su di lui e abbiamo preso questa cosa nel 2018 perché l'ammiraglio Pettorino il numero uno della marina italiana nel pieno di quella roba di Salvini che chiudeva i porti che gridava dietro crociera questa roba qua impedendo alla guardia costiera di fare quello che aveva fatto gli anni precedenti cioè soccorrere i naufraghi l'ammiraglio Pettorino ovviamente è un militare un seditore della patria deve obbedire però disse non dimentichiamoci però che noi siamo la marina italiana cioè quella dell'eroe Salvatore Todaro e non disse altro uno va a guardare e uno dice chi è questo Todaro io non lo conoscevo e dopo reagire non lo conoscevo e abbiamo scoperto chi è e perché è un eroe è un eroe perché comandante sommeggibilista 35enne fascista si vede bene anche dal pizzetto cioè fedele alla patria in Atlantico per arrivare in Atlantico già doveva passare per Gibilterra le bombe di profondità inglesi eccetera affonda un piroscafo belga lo fa a buona ragione perché il belgio in quel momento era ufficialmente neutrale però questo piroscafo viaggiava a luci spente scortato dagli inglesi insomma stava portando aere inglesi pezzi d'aere inglesi lui lo affonda come da mandato e poi invece di fare quello che era raccomandato da tutti i comandi non solo da quelli italo tedeschi anche dagli inglesi lascia di morire lui i naufraghi li prende a bordo ma voi avete presente un sommergibile del 1940 era uno spillo e già ci stavano 50 persone ne prende 26 e le sbarca alle azzorre in territorio neutrale sfidando gli inglesi perché per portarli lui deve viaggiare in superficie non può immergersi perché sennò quei 12 che tiene in torretta affogano e se viaggia in superficie gli inglesi infatti gli inglesi lo intercettano e la storia adesso poi non voglio svelare tutto però la storia è una storia pazzesca di un uomo che peraltro faceva yoga faceva occultismo era considerato un mago perché riusciva sempre a evitare le bombe avversarie e diceva a me sveglio non mi ammazzano fu affondato e ucciso nel 42 due anni dopo a largo di Tunisi mentre dormiva quando aveva il turno dormiva poco ma ogni tanto doveva dormire pure lui un super uomo che aveva un busto d'acciaio così perché era precipitato con un idrovolante e gli aveva andato la pensione di invalidità e invece lui con questo busto che lo piagava ovviamente andava a comandare i sumergibili insomma un grande uomo e un grande eroe che salva la vita dei suoi nemici perché nel momento in cui sono a mollo nell'acqua ormai non sono più nemici sono naufraghi è un uomo di mare italiano questo voleva dire Pettorino nel 2018 i naufraghi li salva certo ecco che stiamo scrivendo la novella diciamo a quattro mani insieme alla sceneggiatura perché lui ce ne vuole fare un film Edoardo De Angelis è una storia straordinaria questa qua sì però purtroppo finché non c'è il vaccino per tutti tu capisci che 70 persone pigiate dentro un sommergibile con la truppa e tutto è l'ultimo film che si può fare dopo la pandemia questo qui per una questione proprio capisci perché deve essere proprio covid free il mondo per girare sto film perché anche se sono ovviamente delle riproduzioni su terra di questi interni di sommergibile perché si fanno i film e quindi ci sono già però sono cose anguste e soprattutto si parla del fatto che questo uomo infligge al proprio equipaggio già approvato eccetera per ragioni umanitarie un'ulteriore sofferenza pigliando a bordo 26 nemici con i quali loro devono in un sottomarino la vita è durissima perché la gente l'odore il calore prendi 26 persone in più e devi farlo vedere in un film devi farlo vedere intanto scriviamo scrivere si può non ci sono contagi a scrivere di assembramenti a metterli in scena sì quindi intanto prendiamo tempo e scriveremo questo libro e lo stiamo scrivendo a quattro mani è molto bello perché ci siamo abbiamo spaccato la voce narrante in tante voci compresa quella di Salvatore Todaro questo è il suo nome che noi abbiamo trovato nelle lettere che lui ha scritto alla moglie eccetera e quindi ci siamo divisi le voci lui lui segue alcune voci segue altre voci la storia va avanti è un lavoro che a 62 anni non mi aspettavo di fare un'esperienza così nuova e bella è bella anche perché con Edoardo De Angelis si lavora molto bene mi fa morire questa cosa che la preparazione io che non ho mai la pazienza sono sempre capito voglio realizzare subito se ho un'idea stamattina dico ok adesso lancio questo progetto e online sono abituato alla velocità di poter concretizzare subito un'idea provarla vedere cambiare e proprio non avrei la pazienza di stare magari un anno due anni tre anni cinque anni mi ricordo quando mi è interessato Oliver Stone che diceva ho lavorato a questo film 22 anni ma come 22 anni come fai a pensare 22 anni io non ce la faccio ecco però lì fa anche la differenza proprio a livello di profondità di contenuto di ricerca è una cosa che io non riuscirei mai a fare anche lì io ti invito perché è un modo di dirlo quello di Oliver Stone che uso anch'io cioè io a un certo punto nel 2016 15 sono andato in giro con una tournée facevo un monologo in teatro tratto da un mio libro su il Vangelo di Marco perché per vent'anni avevo studiato il Vangelo di Marco in quanto è il Vangelo più narrativo di tutti è quello il Vangelo d'azione dove Gesù non parla quasi fa solo miracoli esorcismi eccetera mi interessava proprio perché era così narrativo infatti è la metà degli altri Vangeli la metà dei versetti e c'è il doppio dei miracoli ero partito così ora non è che io l'abbia studiato per vent'anni il grosso del tempo di quei vent'anni ero in stand by con il progetto di Marco però in testa c'era un progetto non era più soltanto un interesse c'era dentro di me un progetto non sapevo ancora cosa farne e quindi studiavo approfondivo e lavoravo poi un'altra cosa e quindi stavo sei mesi un anno senza toccarlo poi ci tornavo sopra poi a un certo punto ho scoperto che cosa volevo fare un libro dice grazie bella scoperta c'è uno scrittore e invece infatti non era quello che dovevo fare io non doveva fermarsi lì perché siccome sto parlando del protovangelo che era trasmesso oralmente è stato scritto ma perché perché tutti raccontassero la stessa storia perché lì se no ognuno se lo inventava no? le cose ne mettevano non le mettevano allora il testo è quello da testimoniare dopodiché era una cosa orale fatta nelle catacombe di nascosto perché c'era la persecuzione e se io non facevo questo ulteriore passo di andarlo a raccontare di persona il lavoro non era completo ma questo l'ho scoperto dopo 15 anni che lavoravo a questo progetto senza lavorarci tutti i giorni come evidentemente anche la vita di storia non può aver lavorato per 20 anni a un progetto è stato lì come penso anche per te ci siano delle cose che stanno lì e che non sono magari e poi ritornano fuori e allora potresti tu anche tu dire ci ho lavorato 5 anni ci ho lavorato 10 anni senza contare che ora c'è chi dice che l'ha detto Stevenson c'è chi dice che l'ha detto Monicelli comunque chi l'ha detto l'ha detto c'è una cosa molto vera riguardo agli scrittori o ai registi alle persone che comunque a un certo punto un giorno vengono fuori con una cosa tiè leggila l'ho scritta tiè guardala l'ho fatta io e cioè la frase più o meno è questa vado a memoria quando io guardo dalla finestra sto lavorando ma valla a spiegare a mia moglie ed è così è veramente così cioè io non ricordo momenti nei quali io non stessi lavorando da quando faccio lo scrittore se avessi fatto l'architetto visto che mi sono laureato per architettura in architettura allora avrei fatto probabilmente come tanti fanno cioè stacchi vai in montagna a scalare vai in barca a vela vai a fare il viaggio in oriente e non stai lavorando ma se ma facendo lo scrittore dove vai vai i progetti vecchi continuano a lavorare poi le spuntano dei nuovi te vai a vedere un posto meraviglioso in India sei uno scrittore e non ti viene nessuna idea difficile e quindi lavori lavori sempre ed ecco che poi con un po' di forzatura lo scrittore può dire ho lavorato 20 anni con questo progetto perché la prima idea di 20 anni fa da un lato è vero ma tu ho ancora un paio di curiosità e poi ti do in pasto a Clubhouse ti piace questa roba di Clubhouse con le domande si sente bene e loro anche ti sembra di essere in radio appunto siccome sono un fan della radio per me va benissimo io ho fatto giurisprudenza e ho fatto l'abilitazione al patrocinio ero convinto di fare l'avvocato nella mia vita ero innamorato dell'idea di fare il principe del foro le cause contro le grandi multinazionali per esempio c'erano quei film lì dove dici ecco che vai in tribunale vince la causa e poi mi ricorderò sempre che a un certo punto in cancelleria in tribunale sono andato una mattina e ho proprio pensato questo qui è proprio l'opposto del mio carattere non posso mai fare nella vita sto mestiere ho mollato tutto e mi sono buttato nel magico mondo di internet così per necessità più che per scelta non avevo un'alternativa e quindi mi domandavo se tu come direi hai fatto lo scrittore e hai avuto un momento del genere oppure mentre facevi architettura tu già sapevi che era un'altra la tua strada che fosse la mia strada non lo sapevo anzi temevo che non lo fosse cioè che non ci sarei riuscito però covavo il desiderio una volta terminato il mio dovere di studente e prima di cominciare la mia nuova vita di architetto o comunque di adulto che cerca lavoro trova lavoro lavora mantiene una famiglia di provarci a fare lo scrittore provarci vuol dire mi alzo la mattina e mi dedico a quello non a studiare architettura non a fare la tesi in architettura e poi magari la sera il sabato no fare scrivere perché io così facevo e quindi sono andato via sono proprio andato via da Prato sono andato a Roma ho fatto una vita un po' bohè avevo 25 anni si poteva ancora farla però comunque era già a scoppio ritardato rispetto a mio fratello che era più giovane di me e che era andato via molto prima di me senza preoccuparsi di finire l'università perché lui non voleva fare l'architetto pure lui anche lui aveva fatto già di scritta architettura io poi fondamentalmente a me l'architettura è piaciuta è piaciuto farla ma formato dico spesso ma non è una battuta è vero io non riesco a capire come fanno tanti miei colleghi a scrivere libri anche molto ben costruiti senza avere studiato architettura come fate a scrivere un romanzo se non avete studiato architettura boh non lo so per dire che ero abbastanza legato allo studio che avevo fatto non ho mai avuto un momento di rifiuto come quello che hai avuto tu perché quella è una materia un po' più arida e lo capisco però è vero che poi negli anni quando per fortuna mi è andata bene dopo un anno un anno e mezzo che ero lì che ci provavo ho trovato un editore per il mio primo romanzo e da quel momento poi non sono più tornato indietro la formazione strutturale perché gli studi gli studi universitari sono quello sono struttura mi è servita tanto mi è servita tanto e per quello che invece riguarda giurisprudenza immagino che la cosa peggiore fosse cercare di dare corpo vita no quella che trovi invece su internet le idee le start up eccetera ha l'aridità delle leggi che spesso non sono neanche del tutto giuste ma sono comunque meglio del caos però mi viene in mente che Carlo Goldoni era cancelliere al tribunale di Chioggia e tutte quelle cose lì quelle cosette quei dettagli che lui è un maestro nel settecento scrive delle cose di una modernità leggetevi se non l'avete fatto la trilogia sulla villeggiatura le smanie per la villeggiatura che è il primo della trilogia è tutta una commedia legata al fatto che non riescono queste tre quattro famiglie che devono partire per la villeggiatura non riescono a distribuire le persone sulle carrozze sui calessi c'è sempre ma questo lui non può andare con lei perché se no poi è disonorevole le famiglie allora però la serva non può andare con quello perché lui gli aveva messo le mani addosso viene fuori tutto dal dettaglio di questi posti in calesse che sono secondo me sono cose che lui ha letto nelle 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 cause sì per cui ti dico che poi anche tu l'avessi fatto non fossi stato così lucido nel dire no poi non avresti buttato via il tempo perché da una parte c'è l'aridità come c'è l'aridità nell'architettura i numeri le cose bisogna che stiano su le case quindi devi fare i calcoli eccetera ma dall'altra ci sono tutti quei dettagli che ti armonizzano con il mondo anche se ti stai occupando di una micro causa capito e questo e questo faceva la lezione di Goldoni capito se c'è uno veramente europeo moderno è lui e credo che lui l'abbia perché ha saputo elaborare ma l'abbia attinto dal suo lavoro di cancelliere ti pesco da Clubhouse ricordo tutti che siamo live su Facebook YouTube Twitter eccetera eccetera e siamo anche live su Clubhouse se volete fare magari appunto una domanda a Sandro riesco magari a coinvolgervi così prendo un paio di persone al volo è bello perché su Clubhouse tu vedi il profilo però poi non ho la più palida idea di chi siano quindi è come dire un incontro al buio un incontro al buio una cosa del genere aspetta che prendo Emanuele Pacekeeper scienziato geopolitico wow ciao Emanuele ciao buongiorno eccoci ciao dici tutto ciao buongiorno Sandra io sono adesso in Libano in una missione con l'ONU caspita appunto di di pischivi di interposizione tra Israele e Libano quindi ok wow incredibile diciamo il profilo meno che mi sarei meno aspettato in assoluto ma vedi come sorprende Clubhouse è una domanda per Sandro sì allora io sono militare di carriera quindi ho fatto tutta la vita nelle forze armate ed è molto interessante questa 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 idea su su Totaro sull'ammiraglio Totaro su questa su questo profilo di militari che hanno che hanno comunque una visione diversa da quello che è l'osterotipo ed è ed è per me ed è per me importante perché io tutta la vita ho combattuto contro lo stereotipo perché comunque il militare ha comunato diciamo una certa visione di destra ordine di ciclina ed è molto facilmente categorizzato ora riportare alla luce questi esempi ce ne sono tanti veramente ma anche moderni perché comunque l'Italia nel panorama del del pischivi rappresenta un'eccellenza proprio per come siamo fatti e di questo voglio sottolineare che qui la missione per esempio che Unifil è comandata da un italiano da tre anni è una missione molto delicata che appunto si interpone tra Israele e Libano quindi consideriamo qui siamo oltre a Siria alture del Golan eccetera però ecco questo aspetto è sempre molto sottovalutato ed è anche ed è anche credo che anche sia importante per tutti per tutti proprio la società civile capire che che il militare non è quello che ti certo diciamo uscire uscire dagli degli stereotipi chiaro chiaro questa diciamo l'osservazione super e anche la domanda cosa si può fare grazie grazie Emanuele guarda io a questo punto ti regalo la battuta alla quale sta appeso tutto il libro e tutto il film perché è riscontrata da diverse fonti alla fine quando lui sbarca questi questi naufraghi tra i quali c'è il capitano di quel vascello che si chiamava Cabalo e che lui ha salvato questo qua gli dice ed è lui che lo riporta in testimonianze successive Todaro è morto come abbiamo detto piuttosto presto gli chiede ma lei lo sa che se io fossi stato al suo posto io non avrei fatto quello che ha fatto lei e lui dice sì lo so infatti gli ordini di Donitz cioè dell'ammiraglio tedesco che era a capo di tutta l'operazione nell'Atlantico erano diversi allora perché l'ha fatto perché noi siamo italiani gli ha detto ed è la famosa la cosa a cui si riferiva l'ammiraglio Pettorino ma anche la cosa alla quale si sta riferendo se non sbaglio si chiama Emanuele cioè essere italiani avere vissuto due guerre in quel modo lì come l'abbiamo vissute noi nelle operazioni militari quando sono necessarie però ci distingue da altre forme di di servizio militare di servire la propria patria perché la nostra patria è una patria diversa diciamo e ci ha insegnato un senso di umanità magari anche un po' improvvisato rispetto al meccanicismo tedesco o anche inglese che però lascia al spazio queste belle crepe di umanità non è stato nemmeno il solo appunto ha detto bene ma anche molto più di recente però io leggendo tutte queste cose che abbiamo dovuto leggere prima di lui in agosto del 40 lui lo fa nell'ottobre il comandante del Malaspina tira giù una petroliera da 3.000 tonnellate inglese la British Fame muoiono solo tre persone perché nell'esplosione muoiono e poi tutto il resto anche lui lì di nuovo gli ufficiali li prende a bordo e gli altri le tre scialuppe di salvataggio dove è andato l'equipaggio li traina alle azzorre anche lui ed è un altro che stava infrangendo le regole hanno dovuto poi rendere conto al comando internazionale quello dove comandavano i tedeschi perché avevano messo a rischio la vita dei propri però loro hanno detto così noi siamo italiani quindi buttateci fuori ma finché siamo noi in comando la gente affogare non la lasciamo bellissimo vado da Ivana su Clubhouse prima avevo una domanda stupida posso farti una domanda stupida sulle mie curiosità così al volo ma quando uno vince il premio strega cioè come funziona ti chiamano e ti dicono Veronesi si si hai vinto il premio strega e tu andiamo no 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 si deve il premio strega è uno dei premi più lavorati dallo scritto nel senso che soprattutto adesso negli ultimi 5-6 anni è cambiato ancora più in questo senso tu devi incontrare un sacco di persone devi andare a fare insieme agli altri finalisti devi andare a fare degli incontri pubblici e anche in svariate città dove ci sono non sai chi sono ma ci sono dei giurati di lì come sono le guide Michelin dei ristoranti bravo e noi dobbiamo fare ed è una cosa che è molto perseguita cioè si comincia con di questi tempi la presentazione delle candidature dopodiché c'è una prima selezione che viene fatta dal comitato in questa selezione che porta 12-13 titoli viene sottoposta a una prima votazione di tutti i votanti anzi un 600 tra qui e all'estero ne rimangono 5 e dopo di nuovo quella grande giuria però nel frattempo tu devi andare nei vari posti a presentare il tuo libro insieme ai tuoi rivali no? wow e quindi nello stesso tempo per esempio l'anno scorso è stata fatta una cosa abbastanza compressa perché c'era alcune cose erano state cancellate per via del covid eravamo nel pieno nella piena riapertura metà giugno eccetera però alcuni festival per esempio erano stati cancellati e quindi siamo andati con i pulmini tutti insieme capito? i sei eravamo in sei l'anno scorso finalisti come una gita che è durata tipo 5-6 giorni e che è andata da Pestum fino a Cervoligure quindi migliaia di chilometri che è una cosa strana ma che ti avvicina a è proprio l'esatto contrario di quello che hai detto te quello è il Nobel Dream ti chiamano hai vinto il Nobel così funziona il primo Nobel di tutte non solo di letteratura magari tu puoi sapere che eri già da un po' di tempo nella rosa nella short list questo magari puoi saperlo se qualcuno te l'ha detto però non dovresti sapere arrivare la tremonata il primo staglio è il contrario tu ci devi lavorare e devi lavorarci presentando il tuo libro senza fartelo venire a noia perché poi alla fine dici sempre le stesse cose a persone diverse ma i tuoi colleghi sono lì sempre quindi io per esempio non ci riuscivo e dicevo sempre cose diverse e e e quelli che dicevano sempre le stesse cose dicevano ma ma quanta roba c'è dentro il tuo libro dicevano ma io non ridi le stesse cose però è tutto un lavoro che si fa per avvicinarsi a questa serata finale che anche qui l'anno scorso fu molto ridotta e e profilattica per via del covid ma che di solito è un macello a al a Villa Giulia nell'infeo di Villa Giulia con un sacco di gente che magna suda eh mondanità eccetera e questi nel mentre che c'è questo baccanale eh leggono i voti e dicono chi ha vinto e quindi è un lungo percorso il primo strega è un percorso che ti impegna dei mesi perché era così in origine quando Maria Bellonci lo fondò con i suoi amici e i suoi amici erano 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 scrittori importanti capito che frequentavano il suo salotto dissero facciamo un premio e e però bisogna battersi bisogna eh capito mh trovare i sostenitori per un libro per un altro discutere eccetera non era leggiamo e votiamo era una cosa molto sociale e anche un po' mondana quindi no il premio strega è un impegno un bel impegno anche anche fisico perché come ti ripeto insomma si va in giro per un tot di tempo su clubhouse se una domanda per Sandro la prendiamo volentieri e poi ho un'ultima curiosità anche qua dalla chat su youtube se Ivana è in ascolto Ivana 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 ciao Monti grazie di me mi piace mi piace molto scrivere non posso dire di aver scritto un libro ho scritto diverse cose e da un annetto diciamo dal momento in cui è partito il covid mi è venuta molto la voglia di provare a fare il passo più grande quindi di mettere insieme queste varie cose dargli un fil rouge e scrivere un libro la mia domanda è nel momento in cui non c'è un editor o comunque non si ha l'idea chiara di quale sia la strategia migliore per trovare editor oggi mi chiedevo quale può essere un consiglio per giovani che vogliono fare questa cosa ovviamente come side project cioè non deve essere l'impegno totale però come portare avanti questa quest'idea e poi capire ovviamente quali sono le opportunità che ne derivano grazie grazie a te Ivana allora guarda ci sono due fondamentalmente queste due vie entrambe queste due vie sono principalmente rivolte a salvaguardare lo scrittore giovane esordiente dalle case editrici a pagamento quelle no tu non devi pagare per vedere pubblicato il tuo libro magari non ti pagano non ti danno un anticipo questo sì questo all'inizio a tutti e gli facciamo un monumento uguale se non ci danno una lira perché ci stanno stampando il libro però non ti devono chiedere l'acquisto anticipato di 500 copi 300 copi ecco quello no però come si fa ci sono due modi uno è cerchi un agente ci sono tante adesso tante agenzie ma tante eh che si occupano proprio di questo anzi fanno proprio global service cioè ti fanno l'editing se vuoi devi pagare però paghi loro non paghi l'editore paghi uno che ti fa un servizio se ce l'hai questi soldi li hai messi da parte li vuoi spendere eh ti aiutano a migliorare il testo perché magari hai lavorato in solitudine e loro che hanno più esperienza eh ora non tutti sono bravi eh bisogna trovarsi bene però poi dopo con il libro eventualmente eh anche riscritto o comunque eh migliorato ti vanno a cercare un editore rimangono legati a te e qualunque sia il tuo l'esito di questo loro lavoro tu hai pagato diciamo per la prestazione e loro scommettono insieme a te sul futuro tuo e di quel libro e questa è una possibilità però è una possibilità che può essere costosa ecco perché queste agenzie non lo fanno gratis soprattutto non lo fanno gratis con chi non è ancora pubblicato se io vado a cercarmi un agente la gente non è che mi chiede dei soldi io non ce l'ho un agente lo dico senza averlo io l'agente però se me lo vado a cercare non è che mi dicano vai paga perché sono già un autore il catalogo ma se uno non ha mai pubblicato nulla eh e io agenzia devo perdere il mio tempo e mettere il mio la mia esperienza io chiedo chiedo un tot che però non è mai una cifra sempre meno di quello che ti chiedono gli editori a pagamento per pubblicarti il libro l'altra è eh di andare sui siti delle case editrici grandi piccole piccolissime dove ormai c'è sempre un una finestra sulla quale si può eh caricare il manoscritto e sottoporlo alla lettura loro dice ma con che garanzia la garanzia è che con tutti gli editori che ci sono se non si mettono neanche a leggerlo il tuo libro sono dei sono dei pazzi perché tu potresti essere Kafka e loro avere la fortuna di trovarselo lì devono leggerlo devono esaminarlo poi saranno lenti nella risposta tutto quello che vuoi ma se te lo fai con tutti gli editori grandi piccoli e medi senza bisogno di conoscere nessuno prima c'era bisogno di sapere a chi indirizzare la busta gialla perché quello era importante lo metti in busta e poi però ti devono dare la dritta di chi è l'editor che capito a chi lo mando all'attenzione di eccetera invece lì è un indirizzo elettronico tu ci carichi il tuo manoscritto senza passare per la gente perché sei abbastanza sicuro di aver fatto il meglio eccetera e ti metti ad aspettare è più probabile oggi molto di più di quando esordi io che tu trovi una risposta positiva perché adesso gli editori li vanno a cercare queste cose mentre quando io esordi non gliene fregava veramente niente a nessuno di avere uno scrittore esordiente anzi era un rischio che non si volevano prendere adesso invece è quasi un vanto più sono giovani ed esordienti molto spesso e più riescono a lanciarli mentre magari è più difficile promuovere il libro di uno scrittore che è un signore o una signora di mezza età che è già al quinto o sesto libro magari senza avere mai vinto il premio strega ma con una bella storia che però è difficile da spacciare per la promozione quindi insomma è un'altra via anche quella praticabile tutte e due contemporaneamente no perché se vai all'agenzia non puoi anche andare da solo devi scegliere per correttezza perché se no quelli ti rispondono e la gente dice ma come eri passato per me dopo parti e una cosa magari positiva ti hanno disposto sì diventa una grana un o l'altro però di sicuro non gli editori a pagamento super Sandro guarda abbiamo sforato ti chiedo scusa abbiamo sforato i dieci minuti ma c'era appunto una marea di domande potremmo andare avanti 24 ore ma ci dobbiamo fermare qua è stato veramente interessante volevo parlare di mille altre cose San mille altri commenti avevo dammi solo un commento sulla pandemia attuale perché io sono ancora in lockdown sono qua in Inghilterra ancora in lockdown fino a marzo insomma io ho un figlio a Londra anche lui in lockdown io penso che penso che si debba mettersi nell'ordine di idee anche qui in Italia di chiudersi un po' di più abbiamo adesso al governo una persona che sa fare di conto come si dice e quindi chi ne subisce danno penso che possa essere un po' più tranquillo rispetto a prima che il suo danno verrà riconosciuto però secondo me 350 morti al giorno non si possono tollerare ancora e sono due mesi che abbiamo 300-350 morti al giorno fosse anche solo per questo secondo me non lo so magari si trova un'altra soluzione però quella che poi alla fine è la soluzione medievale di chiudersi in casa e di passarsi mangiare dalle feritoie quella è l'unica che conosciamo adesso sicché penso che si stia andando in realtà verso quella io mi auguro che sia presa questa decisione prima possibile perché non vorrei perdermi una seconda volta la primavera in Italia tu stai in Regno Unito la primavera è Robetta ma te lo ricordi che cos'è la primavera a Roma l'anno scorso c'è la San Persa mi nemo è il uomo delle nevi ogni giorno quindi non lo so comunque speriamo di non perderci un'altra primavera ecco molto bene Sandro ti ringrazio per tutto un saluto a tutte le persone che ci hanno ascoltato su Clubhouse ci teniamo in contatto e la prossima volta parliamo solo di sport partiamo dalla dance e poi via insomma ce n'è di cose da dire molto bene Sandro in bocca al lupo alla prossima grazie grazie a tutti grazie grazie